Ma tu guarda, il telefono di Ame Amore, chi cazzo è questa? Ok Ame ti ha stampato, devi pensare in fretta, inventa una scusa, muoviti Allora, chi cazzo è? Muoviti, così si insospettisce, pensa a qualcosa, di qualcosa Gocciole Gocciole? Ma che cazzo ti dice il cervello? Con la Nutella!